buongiorno amici buongiorno amiche siamo qui con android auto e la mia radio è spenta perché grazie a questo display a 7 pollici con cornici generose anche troppo generose per fortuna hanno messo una pellicola di protezione pre applicata che è utile stiamo collegati android auto wireless al mio samsung come vedete qui abbiamo la predisposizione a una retrocamera che non è in confezione ma la potete attaccare in un secondo momento l'uscita audio la usb per la per la per la usb normale porta usb normale e una micro sd non c'è altro non c'è power quindi quando voi lo attaccate qui si accende quando qui lo staccate si spegne il cavo è lungo e non è non è male poi il gps sta usando quello del mio smartphone vi faccio vedere in confezione c'è una ventosa per il vetro un cavo audio e un accessorio chiamatelo come volete per collegarlo in modo adesivo alla alla vostra alla vostra auto tornando a noi tornando a noi vediamo un po android auto eccoci qua android auto funziona senza senza problemi è veramente molto molto veloce funziona l'assistente vocale funziona spotify funziona tutto usciamo un attimo usciamo un attimo così e andiamo al al prodotto qui grande cavolata ogni volta la sia zero all'ora quindi tanto vale che non ce l'avessero messa perché non essendo dotato di batteria ogni volta che lo collegate riparte da zero allora qui c'è la radio fm che io non uso perché utilizzo quella della mia macchina qui c'è la usb per musica video e foto questa qua questa qua la micro sd che non ora non c'è musica bluetooth e telefono funzionano solo quando non siete connessi qui ad android auto quindi quando non c'è quest'icona vuol dire che non siete connessi ad android auto e potete telefonare da qui e ascoltare in background la musica lanciata sul cellulare altrimenti queste due operazioni le fate da android auto equalizzatore che serve non serve perché io in questo momento sto utilizzando la cassa integrata del del pad mentre se riuscite a collegarlo alle casse della vostra auto cosa che io non sono riuscito a fare potete anche poi giustare sull'equalizzazione vi faccio vedere un'altra cosa un'altra cosa non mi ricordo dov'è che praticamente ha un veramente un volume bestiale questa questa cassa veramente veramente notevole guardate che roba adesso perché non ho lanciato niente adesso vado un attimo su vado un attimo su android auto vi lancio una canzone e poi vi faccio sentire con che potenza viene riprodotta con che potenza verrà riprodotta sulla cassa è una cosa che mi ha stupito in positivo andiamo andiamo allora abbiamo lanciato io esis torniamo alla schermata principale torniamo alla schermata principale così ecco ho spento la radio a quel punto la radio qua a quel punto si sente l'audio qui dietro della cassa adesso vi farò sentire che cavolo di audio hanno messo su su questa su questo cavolino da 7 pollici veramente 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 sentite che roba eh sono a 7 io veramente alto non riesco non mi sentite neanche parlare non mi sentirete neanche parlare e non gracchia cioè sono rimasto veramente c'è una cassa notevole 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 il display non è niente di speciale ma l'audio a me è piaciuto un casino abbassiamo a proposito di luminosità non c'è quella non c'è quella adattiva però c'è questo tasto che vi fa switchare da una da una luminosità alta che setterete voi per il giorno ad una più bassa per la notte quindi diciamo che lo switch potete farlo voi e visto che molte volte i sensori di luminosità funzionano pure male quasi quasi non è neanche tutta sta tragedia che non ci sia il sensore qui ci sono le impostazioni per la retrocamera se la attaccate basta c'è poco c'è poco c'è poco ma la cosa più importante che c'è è android auto i carplay non l'ho usato che funziona velocissimo vedete si è aperto in un secondo e questo non non è non è scontato quindi è un prodotto che per avere uno schermo da 7 per avere non avere il gps integrato io non pagherei mai sui 160 180 che chiedono loro su amazon secondo me il giusto prezzo e se lo trovate in offerta sui 90 o 100 oltre non non ci spenderei per la questione che io adesso sto usando l'audio della radio ma non riesco a collegarlo all'impianto della mia auto forse il fatto è dovuto a che io ho una radio di ultima generazione in auto una radio dub mentre leggevo su dei forum che probabilmente lui utilizza la vecchia rete fm che è presente su quasi tutte le auto per poi mandare l'audio da questo pad all'audio delle vostre casse dell'auto quindi è probabile che io abbia una radio troppo avanti per questo tipo di accessori che invece si interfacciano bene con le vecchie radio fm credo che sia questo il motivo però vi ripeto la cassa è ottima quindi potete tranquillamente ascoltare le telefonate con quella ascoltare la musica con quella probabilmente riuscirete anche a sentirla sulla vostra radio in stereo cosa che io non sono riuscito a fare e per onestà ve lo dico più o meno vi ho detto tutto saluto Pasqui che ci ospita nel suo canale e gli amici di Revotech vi metterò in descrizione il link all'acquisto potete farlo sia su Amazon che sul loro sito e se mi siano dimenticato qualcosa ve lo scrivo nei commenti saluto anche il gruppo Telegram di Android Auto che vi metterò nei commenti in cui mi potete trovare se avete delle domande ciao a tutti